Proviamo a leggere l'invasione di Israele da parte di Hamas entro tre diverse dimensioni, anzitutto quella globale. Si tratta di un episodio particolarmente tragico di quella che a Limes abbiamo chiamato la guerra grande, cioè la grande contrapposizione tra le maggiori potenze, Russia, Cina e Stati Uniti, che poi inevitabilmente si ripercuote su diverse aree, su diversi scacchieri regionali. Abbiamo visto quello che è successo in Africa con i colpi di Stato che hanno fatto fuori di fatto la Francia e hanno posto fine al suo grado di influenza nel continente del futuro, come lo si chiama. Abbiamo assistito su scala più specifica alla vittoria dell'Azerbaijan contro l'Armenia nella guerra del Nagorno-Karabakh. La lista potrebbe continuare, ma solo per ricordare che quando le grandi potenze sono impegnate altrove, per potenze minori evidentemente si aprono degli scenari fino a ieri impensabili. Ma nessuno aveva pensato, e qui passiamo alla scala regionale, alla scala più specifica, che Hamas potesse essere considerato una potenza addirittura in grado di invadere Israele. Perché di questo si tratta quando migliaia di miliziani di Hamas riescono a penetrare non solo nelle città e nelle località vicino alla striscia, ma anche a diverse decine di chilometri dalla striscia e addirittura a prendere ostaggi non solamente civili, ma anche militari israeliani, riportarli nella gabbia di Gaza, che nel frattempo hanno aperto con pinze e bulldozer e quant'altro, evidentemente Hamas dimostra una capacità militare degna comunque di considerazione, soprattutto in vista della crisi che Israele ha dimostrato di vivere non solamente a livello politico e sociale, ma anche nei suoi apparati. Apparati di intelligence, apparati militari, insomma quello scudo di difesa che finora ha sempre più o meno brillantemente protetto Israele e che certamente non si sentiva minacciato da un pugno di terroristi sia pure particolarmente bellicosi, ingabbiati nella striscia di Gaza. È successo e dobbiamo prenderne atto. Non sarebbe successo molto probabilmente se non fossimo nel contesto della guerra grande, ma ancora più specificamente se non fossimo nel contesto della crisi di Israele. Nell'aprile scorso l'IMES ha dedicato un numero, Israele contro Israele, alla questione interna a Israele, cioè alle faglie che dividono la società, le diverse anime e culture di Israele, compresa quella araba che ricordo vale più o meno un 20% della popolazione, ma non solo, e soprattutto la crisi politico istituzionale dopo che Netanyahu ha cercato di forzare la bilancia dei poteri interni a Israele a sfavore della magistratura e in particolare della Corte Suprema che a favore proprio e della strettissima maggioranza di destra a destra che lo sorregge. C'è stata, come ricorderete, anche una reazione molto forte in ambito forze armate, in ambito intelligence. I maggiori esponenti, non solamente in pensione di queste due strutture decisive della sicurezza di Israele, hanno apertamente criticato Netanyahu e qualcuno a Teheran, piuttosto che in Libano, ma soprattutto anche a Gaza e in Cilgiordania, si è fatto due conti e ha detto che questa era l'occasione più unica che rara di farsi notare. Certo, il caso di Hamas è molto specifico, stiamo parlando di un territorio, quello di Gaza, che lungo più o meno una ventina di chilometri rappresenta una porzione di terra minima in cui si accalcano due milioni di persone in condizioni abbastanza disperate e che soprattutto non vedono nessuna prospettiva. Consideriamo anche che dentro Hamas sta montando una nuova generazione, quella che è nata con Arafat morente o subito dopo, insomma i ventenni di oggi, che non ne possono più dei vecchi capi che disprezzano profondamente Abu Mazen e l'autorità nazionale palestinese che mantiene la sua bandiera in Cilgiordania, anche se nessuno francamente considera l'ANP un interlocutore credibile. Se non fosse per Israele che in qualche misura, in qualche modo lo tiene in piedi, già non esisterebbe più. E questo significa che Hamas oggi è quel che resta della resistenza palestinese e deve essere considerato come un attore credibile e non solamente uno degli attori palestinesi, sicuramente quello più agguerrito, più forte e più popolare. A livello regionale poi la grande vittima è l'intesa Israele-Arabia Saudita. Gli americani ci hanno lavorato per anni, Biden si è speso per questo, anche contro il suo non proprio amico Netanyahu, che non era poi così convinto, adesso per Mohammed bin Salman, per Netanyahu o per chiunque sia capo dell'Arabia Saudita ed Israele è molto più difficile immaginare, non dico un'intesa, ma anche solo una dichiarazione di intenti comuni come invece stava per accadere. E questo vuol dire che ancora quella che si chiama la piazza araba, l'opinione pubblica araba, qualcosa conta e i regimi locali non possono fare quello che vogliono. Nesce male anche l'Egitto. L'Egitto aveva in qualche modo contrattato con Israele una sorta di cosorveglianza condominio, naturalmente in posizione subordinata sulla striscia, aveva recentemente tranquillizzato Israele sulla situazione ed eccoci qua. Eccoci qua con la caccia all'uomo e alla donna in Israele, eccoci qua con il tentativo israeliano di reagire il prima possibile e in maniera robusta. Vedremo come questo accadrà perché immaginare un'invasione di terra di Gaza in queste condizioni alla caccia o alla ricerca meglio degli ostaggi israeliani catturati da Hamas civili e militari, tra cui alcuni anche a quanto pare di alto grado, significa immaginare uno scenario di guerriglia urbana per cui certamente Sahal non è attrezzato e che comunque provocherebbe migliaia e migliaia di morte. Quindi anche dal punto di vista tattico le scelte a disposizione di Israele per ribaltare la situazione sono limitate e d'altronde non può non tentare di farlo perché altrimenti la sua credibilità già molto abbassata scadrebbe a livelli preoccupanti e potrebbe far venire idee particolari a chi Israele non ama nella regione e nel mondo ce ne sono parecchi. Infine l'ultima considerazione riguardo alla cosiddetta sorpresa. Beh sì sicuramente è stata sorpresa oppure diciamo che non ci siamo sentiti sufficientemente pronti a quello che è successo perché Israele ma anche gli Stati Uniti perché i due intelligence collaborano strettamente non hanno capito o vogliamo anche pensare l'impensabile lo hanno capito ma i leader politici americani e israeliani non hanno preso delle contromisure o hanno sottovalutato i messaggi. Credo che una delle ragioni piuttosto rilevante che vale anche in qualche misura per noi occidentali ovunque consiste nella visione puramente tecnologica ormai prevalente dell'intelligence quasi che si trattasse di mettere in un contenitore la maggior parte possibile di segnali elettromagnetici provenienti del campo interessato la cosiddetta intelligence dei segnali trascurando completamente la parte umana. Due intelligence complementari ma se tu ti preoccupi unicamente di raccogliere delle informazioni per via elettronica o per altri magheggi tecnologici ma non hai la più pallida idea di che cosa vogliono fare i tuoi avversari con gli strumenti che tu hai stabilito abbiano sei solamente a metà del guado. Bisogna ricominciare a pensare dentro al nemico, bisogna ricominciare a pensare con l'anima del nemico, bisogna cercare di mettersi nel cuore e nella mente di chi potrebbe attaccarci e non semplicemente affidarci alla pura quantità dell'informazione. Insomma l'intelligenza, ricordo un vecchio titolo di un numero di Rimes, non è artificiale.